Come i nostri colleghi uomini dobbiamo compilare un diario elettronico dove scriviamo praticamente in qualsiasi ora del giorno dove siamo, quindi in ogni attimo ci sono dei controlli che possono essere effettuati per appunto vedere se è tutto regolare i nostri valori del sangue e delle urine. La certificazione Informates for Disease per me è proprio un valore aggiunto al prodotto, nel senso che la qualità del prodotto è indubbiamente la migliore e avere questo in aggiunta è un qualcosa che toglie ogni tipo di pensiero a noi atleti di cui ne facciamo uso praticamente ogni giorno e più volte al giorno. Mentalmente sei tranquillo su quello che stai mangiando o bevendo.